Un evento lungo un'intera giornata per inaugurare un centro di opportunità stimolante, innovativo e inclusivo che valorizzi il talento dei giovani e che offra loro l'opportunità di crescere, apprendere e dare forma al loro futuro professionale rimanendo nella loro terra d'origine. L'Hub Rete di Nuoro sarà inaugurato lunedì prossimo, 23 ottobre, presso la Camera di Commercio e a dimostrazione del valore che il Dipartimento per le Politiche Giovanili, Invitali e la Camera di Commercio danno al progetto a presiedere la cerimonia inaugurale sarà presente a Nuoro, oltre a rappresentanti istituzionali, imprenditori e stakeholder, il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi. Durante l'evento saranno illustrate le funzioni chiave del Lab, a partire dagli obiettivi, le strategie e i servizi che dovranno essere messi in campo per sostenere i giovani e i futuri imprenditori nell'acquisizione di nuove competenze e nello sviluppo delle loro idee imprenditoriali. Un percorso che l'Hub si impegna a portare avanti attraverso accompagnamento, workshop, incontri e collaborazioni con esperti del settore, enti e istituzioni locali. L'Hub nuorese costituirà dunque un presidio che, se si rivelerà ben programmato, potrebbe rivelarsi fondamentale nella lotta alle principali criticità legate ai giovani nel nuorese, dall'altissimo tasso di dispersione scolastica che conferisce alla provincia una delle maglie nere in Italia, alla sempre più diffusa decisione sofferta di emigrare per poter realizzare i propri sogni professionali e imprenditoriali a causa della mancanza di opportunità.